Un evento, quello di questa sera, si parla della Francia, ma soprattutto si parla del Louvre che viene a Teramo o il contrario? Un po' tutte e due, nel senso che io sono nato a Teramo e mi sono finito a Louvre e oggi è il Louvre che ho finito a Teramo. Si parla in effetti di questo, si parla di che cosa c'è a Louvre che racconta la storia di questo territorio. C'era bisogno di questo? Assolutamente, perché valorizzare che è il mio compito, il patrimonio di questo territorio, del Teramo, della sua provincia, del suo interland, bisogna partire dal cercare dove in altri posti fuori da Teramo hanno già fatto questo lavoro, hanno già valorizzato questa tradizione artistica in questo caso per prendere spunto, per allacciare i contatti e per costruire insieme nel futuro nuovi progetti di valorizzazione. Da Teramano come trova Teramo? Cambiata, un positivo, rinata. Da quanti anni? Gli ultimi anni? Sì, sì, dopo gli anni del terremoto devo dire che le ultime volte che sono tornato mi è sembrata un'altra città. Perché un turista dovrebbe venire a Teramo a vedere cosa, oltre al Castello della Monica? Perché ci sono molte cose in tutta la provincia, in realtà c'è una rete molto capillare, patrimoniale molto capillare, fatta di patrimonio materiale, fatta di opere d'arte, di opere di arti decorative, fatta di patrimonio immateriale, fatta di una gastronomia, di prodotti tipici, di luoghi, di paesaggi, che messi in rete, costruendo un calendario e dei percorsi integrati, possono offrire al turista qualcosa che altrove non trova. Teramo dovrebbe puntare soprattutto a che cosa, secondo lei? Secondo me deve puntare all'integrazione di tutto questo patrimonio capillare sul territorio. Non c'è una grande emergenza architettonica, non ci sono grandi musei ovviamente, non ci sono complessi monumentali che da soli riescono ad attrarre il turismo, ma c'è ovunque ogni metro che passa un qualcosa che può essere osservato intelligentemente, naturalmente, che può costruire in un percorso costruito, ricostruire la storia di questo territorio, molto ricco in questo senso, di questi piccoli patrimoni puntuali.